All up! Descrizione del gioco, come funziona, tanto sapete tutti come funziona il gioco, ma spieghiamolo brevemente Praticamente voi mi dite un numero, tipo, che rappresenta la bellezza estetica di una persona, tipo, è un 7, ok? Nel senso che per me, per i miei canoni di bellezza, quella persona è bella 7 su 10 Ma fa una determinata cosa, ha una determinata abitudine, ha un determinato comportamento, ha una determinata caratteristica E quindi io risponderò con un numero, quindi è un 7, ma, non lo so, si mangia le unghie dei piedi 10 Ok, il gioco è abbastanza semplice, solitamente gli sfigati lo fanno su Instagram, ma io, fucking giga chat Lo farò qui, con voi, con la mia chat, 4200, ma 4200 perché è un 2, ma è tigre Sapete già come funziona il gioco Don't, don't fucking care Aggiunto, perfetto Ora dovrebbe esserci Dovrebbe esserci in chat Me le fai leggere? Com'è che me le fa leggere? Porco di... Premi la stelline, io non gioco Allora non giocare, stai zitto, non me ne frega un cazzo, hai capito? Coglione Mi hai fatto scrivere la roba Sì, scusatemi, scusatemi, scusatemi Posso non essere... posso non avere la chat che mi urla contro ogni cazzo di minima cosa che faccio? Porca miseria Posso non avere la chat che continua a stressarmi per ogni roba? Don't even if you... Ho fatto Ho sistemato Ok È un 10, ma è minorenne Devo rispondere seriamente o devo rispondere ironicamente? Raga, segnalamolo in massa What? Ma perché deve degenerare ogni cazzo di volta? Seriamente è un 10, ma è minorenne Non vedo come una persona minorenne possa essere considerabile un 10, sinceramente Cioè, esteticamente può rimanere un 10, ma non... Cioè, non sono interessato Però cazzo, riflettendoci ieri quando abbiamo scoperto che la tizia aveva solamente 14 anni Un po' mi è calata Perché sembrava una quarantenne, sembrava una trentenne, aveva 14 anni, te lo giuro, terrificante È un 10, ma è stupida come la merda È 12, 12 Le ragazze stupide sono molto divertenti Le ragazze stupide sono divertenti e sono molto interessanti Non so che cosa dirvi Se non siete d'accordo con questa mia opinione potete presentare la vostra richiesta al centro reclami L'intelligenza è sopravvalutata, ok? Non per forza una persona intelligente è simpatico, ci vuoi stare insieme Alcune volte tu vuoi anche solamente divertirti Dipende però che tipo di stupidità ha Cioè, se è una stupidità che tipo dice delle cazzate, va bene Se è una stupidità che dice delle cose un po' gravi, che cazzo ne so Anche politicamente parlando, o prende delle posizioni sociali Quella è una cosa che te la fa scendere Quindi, se è stupida nel senso che non si informa delle cose e non gliene frega un cazzo È simpatica e fanno ridere le cose che dice Allora rimane un dieci Se invece è stupida nel senso che veramente ti fa venire voglia di martellarti i coglioni Quando dice le cose e ti fa arrabbiare In quel caso è un due No, non riesco a tollerare Non riesco a... per me perde qualunque forma di attrazione fisica possibile questa roba È un nove ma non gli le piacciono i gatti Rimane un nove Non capisco perché ad una persona non piacciono i gatti Effettivamente se fosse allergica ai gatti forse mi diventa... ops Forse mi diventa tipo un otto Se tipo non le piacciono i gatti Cioè se è allergica ai gatti Non so perché le persone con le allergie sono spaventose Un nove ma non le piacciono... indifferente Non... no, indifferente Rimane un nove È un dieci ma ti fa spendere 4200 stelline per niente È un dodici È un due ma è bolognese comunista e mistress Ma bolognese nel senso che ha l'accento... cioè che c'è proprio quell'accento, quella parlata Se ha... allora se ha l'accento bolognese è un punto in più Può arrivare ad un 6 Sono sicuro... cioè bolognese comunista mistress bro Può arrivare ad un 6 chiaramente Chiudo gli occhi, non lo so Ok Ecco perché io non dovrei fare questo gioco È un dieci ma non ti scopi sua madre O è un dieci o non mi scopo sua madre Non può essere entrambe le cose E se è un... beh dipende sua madre che... che cos'è Rimane... rimane un dieci La donna giusta non ha bisogno di una mamma milf È... è bella così com'è È un dieci ma non vuole mandarti foto dei piedi Ho la netta impressione che qualunque cosa io dico in questa community Non verrà mai preso sul serio per un qualche motivo Rimane... rimane... è un undici No rimane un dieci Anche il ragazzo con cui parlo Cioè che poco conosco Mi mandano le foto dei piedi Capita molto più spesso di quello che... di quello che vorrei E di quello che mi aspetto Il problema del meme Il problema di aver reso questa cosa un meme È il fatto che per molti cioè sia reale Che tu lo dici perché... non perché ti fa ridere Ma perché è vero Comunque niente foto dei piedi in DM per favore Ogni tanto gli rispondo che piedi brutti che hai È un dieci ma non vuole farsi leccare i piedini Mamma mia Ma ragazzi questa community te lo giuro Te lo giuro bro Cosa ho coltivato? È... è un venti È un otto ma ha È un otto ma ha È un dieci ma non sa cosa siano i meme Non riesco proprio a vedermi che ho una discussione con una persona che proprio non sa cosa sono i meme Cioè non riesco a vedermi che ho una discussione romantica tra virgolette O in cui ci provo con una ragazza che non sa cosa sono i meme Sarei veramente total... cioè Non che non abbia altri argomenti di discussione Il punto è che anche quando parlo di cose serie Spesso e volentieri Nei video come nella vita reale Tiro in mezzo le battute, dei riferimenti, delle cose Quindi lo trovo veramente un turn off pauroso Adesso non dico che diventa un... però diventa sicuramente un 4 Mi passa la voglia di scriverle E... e... e succede Succede sfortunatamente che sono tipo fregnissime Ma appena ci parli ti stanno sul cazzo Non capiscono mezza battuta e... ti scende Eh sono fatto così Sono un meme sessuale Meme sessuale Meme sessuale I found my people È un 9 ma è alta Dipende quanto è alta Comunque è still un 9 Anche se è più alta di me ci uscirei I don't care Non mi importa Non ascoltate quello che la società vi dice sulle ragazze alte Love them anyway È un 3 ma dei... I piedini Basta Rimane un 3 Rimane un 3 Anzi diventa un 2 Solamente perché mi ha fatto vedere i piedi È un 10 ma non segue le live È un 2 Allora se non sa proprio che cos'è Twitch Rimane un 10 Se sa cos'è Twitch si guarda le live di determinate persone E non le mie È un 7 È un 10 ma odia Jojo E rimane un 10 Cioè fa un culo gli anime se devo scopare Odia... Dipende perché odia Jojo Dipende... Posso convincerla Posso convertirla I can't fix her È un 9 Ma è una borghese capitalista sfrutta bambini Che elogia il duce 10 È un 9 ma è americana Od... No sai che non... Non mi piace Non è americana Pover niente Dipende che americana è Cioè se è tipo americana Nel senso bionda Con gli occhi azzurri Con quella Emily Proprio Emily Allora è un 4 Non... È un 2 È uno 0 Non riesco nemmeno a sentirla parlare Cioè capito se è tipo Doja Cat Allora sì È un 10 Ma ti tratta benissimo Ma è un po' egocentrica Mi rimane un 10 Uno mi tratta bene Due è egocentrica Sono due cose che Che a me non dispiacciono per niente Beh le persone egocentriche Secondo me Non sono così male La gente tipo Cerca di farti pensare Che la gente egocentrica È una merda Però tipo tutti gli artisti Sono egocentrici Tutte... Cioè tutte le persone più artistiche Sono... Sono molto egocentriche Sono insicure Perché essere egocentrici È anche Una faccia dell'essere insicuri Però... Cioè preferisco di gran lunga Stare con una persona Che è tipo Girl boss Slay queen Cioè sono... Sono stupenda Blablabla Piuttosto che una che Oh mio Dio si mette a piangere Cioè non si mette a piangere Ogni 5 minuti Cioè si lamenta Ogni 5 minuti E non fa altro che Dire quanto sono brutta Solamente perché tu gli dica No non è vero Non sei brutto Cioè a me Se è egocentrica È un po' sicura di sé Va... E poi mi tratta benissimo 10 Se non di più È un 9 Ma è una tua fan 0 È un 9 Ma trova i pantellas divertenti 20 È un 10 Ma ha un pene 40 È un 10 Ma non ingoia 0 No 0 No 0 No 0 No non è Che turn off Cioè Bro preferisco una ragazza Che mi piscia in bocca Letteralmente Ma così come tipo I ragazzi che non la leccano Bro 0 Ma che cazzo siete Che schifo Cioè io non ce la farei proprio Cioè se uno mi dice Se no aspetta Devi venire sul fazzoletto Io mi rivesto Ma nemmeno morto Manco segandomi Vengo sul fazzoletto Bro vengo fuori dalla finestra Letteralmente Quando mi sto segando E sto per venire Mi giro Salgo qua in piedi Ok Allora io quando Quando mi sto segando A un certo punto mi fermo Mi alzo Salgo tipo qua in piedi Su sta roba Per i video Scrivetemi in DM Su Instagram Trovate in descrizione Qui sotto c'è un parco Cioè c'è un parco Fanno le feste di comprando i bambini Tell me why Ain't nothing but a heart I want it that way Tell me why Ain't nothing but a heart Tell me why I want it that way Dove I want it that way Tutto lo stadi Desire Yes No È un 9 Ma dice che gli anime Sono per bambini 20 O totalmente Weeb Totalmente Otaku Che scopiamo Che si fa i cosplay E scopiamo Mentre fa il cosplay Di Zero Two O di Giotaro O totalmente Weeb O che non so Un cazzo di sta roba Non condivido Questa roba Così diffusa Soprattutto Nei confronti Soprattutto in alcune categorie di persone Che l'idea è che la tua fidanzata Deba avere le tue stesse passioni Vedo molto spesso della gente Che dice No la mia ragazza Deve guardare gli anime Deve giocare ai videogiochi Deve essere una nerd Cioè se ti piacciono quelle cose Fine Sono contento per te Ma soprattutto per molte persone Che è l'effettivo problema È tipo Dover sempre rimanere nella stessa bolla Cioè avere sempre persone Che hanno i tuoi stessi gusti musicali C'è gente così C'è gente che Deve avere i miei stessi gusti musicali Le mie stesse passioni Devono piacere I miei stessi film Le mie stesse cose Che è una stronza Cioè è vera Una stronzata Capisco perché viene fatta Ma è un peccato Perché la cosa bella Della relazione Che sia di amicizia O che sia una relazione romantica È che l'altra persona Ti insegni qualcosa No È quella roba figa Tu arrivi lì Incontri una persona Dei gusti diversi da te Ha delle robe che Che ha vissuto Che gli piacciono Che tu non hai nemmeno mai considerato Ti introduce A dei nuovi cibi Delle nuove tradizioni Un nuovo modo di pensare Magari quel film Ti è sempre stato sul cazzo Quel cantante L'hai sempre odiato Non ti è mai piaciuto Non hai mai ascoltato Quel genere musicale Incontri una persona A cui piacciono queste cose O che conosce queste cose Magari diventano robe Che ti piacciono Diventano robe che piacciono Anche a te E hai bisogno Cioè noi abbiamo bisogno Spesso e volentieri Che gli altri Ci facciano scoprire alcune cose Questa paura Degli altri Di uscire Dalla loro comfort zone Dalla loro community È Boh Secondo me È estremamente avvilente È estremamente avvilente E scoraggiante Trovatevi delle persone Che sono diverse da voi Però se nella via di mezzo Non mi piace Cioè se è tipo Che ha visto qualche anime Si sente sto cazzo Si sente un otaku Di avere affanculo Hai visto Death Hai visto Death No ti stai zitto Non rompermi i culoni È un 5 Fa le live su Twitch Da quasi due anni È socialista Ma supporta il capitalismo Ha gli occhiali In questo momento Indossa una maglietta Con un gatto vestito Dall'astronauta Penso sia gay Ma fa sesso Con le F Asterisco M M In E È depresso E la sua chat Lo bullizza Gli piacciono i piedi Si scopa la mamma Di tanti membri Della chat Posta anche su TikTok Twitter Instagram Guarda i film Le serie tv E gli anime Almeno Gli piace Giojo Penso E per me È importante Avere cose In comune Forse meno di 5 Zero È un 10 Ma non ha Mai guardato Ma non ha mai guardato Sonic E Shadow Zero Cioè se sei una ragazza E non hai mai guardato Nenai E ti fanno schifo Cioè Sparisci dalla mia vista Sparisci dalla mia vista D Asterisco Non ha Non ti permettere mai più Cioè bro dai Guardare i po**i strani E cringerci E farsi una risata È la base bro È la base Dell'essere una persona Sana di mente Perché ti piace Quando gioca League of Legends Membro Membro tipo Della mia chat Day my little pony What the f**k Is this community Oh mio dio Però ogni tanto Secondo me La gente viene in questa community Solamente per sentirsi Un po' meglio Con se stessa Tipo vengono in chat Leggono le puttanate Che scrivete E dite Ok io sono Quello normale E ho un 2 Ma è di piombino Ma è scopato Con una ragazza di piombino Questa roba mi Mi arrapa un sacco Dai su Bro le ragazze di piombino Ma stiamo scherzando Bro è un 7 minimo Di Che cazzo è piombino Ma parte che c'è pure su youtube C'è pure su youtube Quanto sei stupido Oh madonna Oh se c'è su youtube Non avete nessun Avete nessuna Nessuno valido scusante Dov'è Eccolo qua Piombino capitale Bro C'è quasi 4000 visual È un 9 ma non sa l'inglese Però sa qualche altra lingua Allora Se non sa l'inglese Ma sa qualche altra lingua Tipo Non lo so Il francese O lo spagnolo Merda Lo spagnolo è veramente hot Se tipo sa solo l'italiano E il dialetto Della sua regione Allora No mi spiace Mi diventa un 7 Un 6 È un 9 meno Ma pensa Che come L'Italia gestisce La cittadinanza Ha senso E la cittadinanza La nascita Bro è uno 0 È uno 0 Ieri ho fatto la sclerata Peggiore possibile Immaginabile In live Su questa roba Della cittadinanza È una razzista del cazzo Ed è uno 0 pieno È un meno 40 Sto per ripartire Sto per ripartire È un meno 400 Se mi dice che lo you sanguinis È giusto È un meno 400 Va bene anche se è contro lo you soli Però Se è a favore dello you sanguinis È meno 400 È un 9 Ma dice Povero gabbiano È un 4 Un 5 È un 9 Ma usa whatsapp Bro usa whatsapp Non so 7 Dico 7 Perché deve parlare con le persone Che hanno un android Non capisco È un 7 Ma è Pervertito a livelli Altissimi 10 Se è kinky Mi dispiace Ma Comunque sì Un 7 Super horny Super kinky 10 È un 10 Ma è omofoba E razzista come te Un 20 Ma whatsapp Lo usano anche chi ha iphone Sono Sono delle persone Delle quali non voglio parlare Di cui non voglio dire niente Telegram C'hai capito Telegram lo capisco Telegram è figo Telegram ci sono i bot Ci sono mille opzioni per la chat Che esistono da anni E che whatsapp Non ha nemmeno ancora implementato 30.000 volte meglio iMessage O Telegram Su iMessage ci sono i giochi gratuiti bro Cioè è pieno di giochi che tu puoi fare Cioè è abilitato facetime Che è 30.000 volte di quella cagata delle chiamate su whatsapp Delle video chiamate su whatsapp Che ha molte più opzioni Ha molta più personalizzazione Forse si può fare anche su whatsapp Se voi siete abbonati al mio canale su twitch E voi andate su iMessage Avete le emoticon Perché quando vai su iMessage Ok C'hai sotto le cose Dove scrivi No c'hai i giochi C'hai la cosa delle facce Giganti Gli adesivi C'hai il digital touch Che è molto figo E poi c'hai adesivi twitch Se tu premi E fai login col tuo account di twitch Dove devi mandare i messaggi Qua sotto Tra l'altro puoi anche mandare i video su youtube I tiktok I fondi base di twitch Del canale Perché ti escono in automatico Ci sono le emoticon Del canale Di tutti Dei canali di cui hai fatto la sub Ho whatsapp Ma ho non disturbare 24x7 E non parlo con nessuno Perché non esco di casa E non ho amici Average membro della mia chat È un 9.5 Ma non odia le minoranze E non è psicopatica Come vuole assassinare tutte le persone Che ti guardano E che non si fa pisciare in bocca Un 6 Ho bisogno di una persona gelosa Nella mia vita Sono insicuro Ho bisogno di una persona gelosa Che mi dia una valanga di attenzioni Io lo rifaccio È un Ma no Io non provo nessuna attrazione Travalcare il trend Oh raga Se volete vedere altri miei video Se volete supportarmi Se volete motivarmi Ad essere una persona migliore Mettete un mi piace Se è sempre ben Ben Gradito Mi aiutereste con l'algoritmo Fareste vedere a tutti Che avete un pene enorme Oltre ad aiutare me Anche youtube Mi farebbe vedere altri miei video Anche se mettete Non mi piace Vi li fa vedere Quindi cioè Piuttosto E tanto non si vedono Nemmeno E non mi piace Quindi non ha senso Però mi piace si vedono E facciamoli vedere Questi mi piace Facciatemi un commentino Con le vostre opinioni a riguardo Visto che Tra l'altro Doveva essere Una semplice puntata di È Una semplice puntata di Doveva essere Un semplice È un Ma E invece Ho dovuto sempre farlo A modo mio Facendo 30.000 discorsi Che non c'entravano Un cazzo Fatemi sapere la vostra Opinione a riguardo Qualche bel Punto di vista E I commenti Sono sempre Ben accetti Fanno molto molto piacere E mi aiutano Tanto Quindi Yes Grazie mille Oviller Un bacetto A tutte le persone Che si sono iscritte Se volete anche voi un bacetto Iscrivetevi È molto figo Ve si ama Ci vediamo in un prossimo video Su youtube Ce ne sono tantissimi Su questo canale E E E Ah no Oh No niente Oppure in live La mia chat E io vi Vi salutiamo